Un viaggio tra i mestieri del libro e della moda lo propone la mostra come in un libro aperto, esposta fino al 22 febbraio all'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Assemblea Regionale di Via Arsenale a Torino. L'allestimento realizzato dall'Associazione Amico Libro e dal Liceo Artistico Passoni con la Fondazione Paolo Ferrari e il Centro Servizi per il Volontariato rappresenta una tappa privilegiata di un percorso didattico incentrato su stili di vita, diritti e cultura contemporanea. Un viaggio ideale che accompagna gli studenti dai banchi delle scuole medie a quelli del liceo e al mondo del lavoro. Abbiamo portato a vedere delle cose fatte dai ragazzi che sono in parte disegni, in parte studi e in parte realizzazioni vere e proprie. Abbiamo tutti gli indirizzi della scuola e cerchiamo anche in questo modo di far conoscere la scuola all'esterno. Questo è un ottimo sipario per far vedere a tutta Torino cose della nostra scuola. L'Associazione Amico Libro per i suoi intenti istituzionali socioeducativi ha programmato con l'Istituto Passoni un percorso sul mondo del lavoro. Essendo oggi una situazione molto particolare, la mancanza di lavoro, la scelta del loro futuro, si è pensato di poter quindi condurre questo gruppo in questo progetto, il libro racconta. L'approfondire ed essere quindi vicino ai ragazzi per aiutarli a realizzare il loro futuro, quindi la conoscenza di tutto ciò che avviene nel lavoro e delle prospettive per il loro futuro.